Come era la festa? Grande! Aveva un maglione da donna ed è ubriaco. Sì, siamo bravi. Siamo bravi genitori. Mi chiamo Simon, sono come te. Ho una famiglia normale e degli amici incredibili a scuola. Lo sai che non è consentito inviare messaggi amico? Andiamo, non voglio che i miei studenti usino Tinder. Giusto. Quello è il mio territorio. Gran parte della mia vita è fantastica, solo che ho un segreto davvero enorme. Ciao. Visto il nuovo post sul ragazzo gay non dichiarato? Chi pensi che sia? Caro Blu, sono come te. Nessuno sa che sono gay. Caro Simon, è bello sapere che c'è un altro a scuola con il mio stesso segreto. Quando l'hai capito? Caro Blu, tanti piccoli dettagli me l'hanno fatto capire, come la mia prima ragazza. Io mi sono innamorata di te. Torno subito. Non è stato un bel momento. Vieni a prendermi, i ragazzi bevono alcolici. Oh mio Dio, arrivo subito. Simon, l'hai detto a qualcuno? No, Blu, non l'ho detto a nessuno. Dire al mondo chi sei è abbastanza spaventoso. Abby è la ragazza più sexy. Ah, non è proprio il mio tipo. Non per la pelle. Adoro le donne di colore. In realtà adoro tutte le donne. Caro Blu, non mi sembra giusto che solo i gay debbano dichiararsi. Perché etero è la norma? Devo dirvi una cosa. Sono etero. Mi piacciono le ragazze. Mi vuoi uccidere? Mi piacciono gli uomini. Oddio, aiutami Gesù, ti prego. Simon, vai al computer. Qualcuno ha pubblicato le tue email sul blog della scuola. Mi dispiace Simon, non posso continuare. Sono soltanto io quello che deve decidere quando, dove, come e chi lo deve sapere e come dirlo. Doveva essere mia la scelta. Sono il tipo di persona che tiene così tanto a qualcuno da soffrirci tantissimo. Anch'io. Ho avuto la sensazione che nascondessi qualcosa. Tu sei sempre tu, Simon. Sei mai stato innamorato? Non lo so. Penso di sì. Caro Blu, magari non so il tuo nome o che aspetto hai, ma voglio trovarti. Sono stanco di un mondo in cui non riesco a essere me stesso. Sei stato con me perché sono uguale a un ragazzo? No, in realtà ti ho lasciata proprio perché non assomigli a un ragazzo. Ah, ok. Grazie. Figurati. Volete scoprire se il trailer è entrato nella nostra classifica? Visitate il link nell'infobox e commentate sotto al video. Ricordatevi inoltre di cercare Screen Week e di iscrivervi a tutti i nostri social, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Per ogni notizia sul cinema, sulle serie TV, per il gossip dell'ultima ora e le recensioni delle ultime uscite, non perdetevi il nostro blog, blog.screenweek.it. Volete inoltre rimanere connessi anche dal vostro smartphone, Apple o Android? Scaricate le nostre app Screen Week e Screen Week TV. Sono gratuite. Ciao!